Musica Bella a tutti ragazzi Qui Berna E bentornati in un nuovo video Nuovo video Eravamo rimasti dentro A Il rifugio dei tedeschi che dovevamo Trovare Dovevamo confiscarli il laboratorio O comunque quel cazzo che era Dei tank Raggiungi la quarta armata Dintorni nel complesso industriale Dai spunto sta testolina di merda Aia Ecco Già morto a posto Toglite dal cazzo Yusuf Le cazzo è arrivato questo qua Qui libero Qui c'è gente Lì vedo uno Lì un altro E lì un altro Kushner Nerio Merda Quanta gente c'è No Si è sbagliato Dai ma sono vestiti tutti uguali Per fa Guarda Perché c'è un panzer Devo distruggere qualcosa Qua per forza Eh infatti Vieni qua Vabbè Cagare Ma per favore Facciamo così In modo molto cauto Dai minchia Non possiamo rubare un cazzo di tank No non ci credo Vaffanculo Pensavo fosse un nemico Dai sono tutti vestiti uguali Non ci credo Eh da qua Eh da qua Eh Dai dammi sto panzer Hop No vabbè non ci credo Oh No c'è qualcosa che non va No è nemico raga Oh Che cazzo E rimbalzava contro il colpo Come è uscito Merda Muori Cane Ah Ecco Porca puttana Se moriva così Se moriva ancora Quante bestemmie Io sai cosa faccio Ecco Stavo morendo ancora Raga ho troppo paura Sì sì Guarda qua Che bella vita che c'è No perché adesso Sto colore qua Io gli sparo contro tutto Mica che bisognava Distruggere qualunque cosa Ma che se volete fare Tre addirittura siete venuti Ok Ci siamo Oh E che Oh Oh Ok Si prendo il kit Prendo il kit e mi sparano Porca puttana troia Murasco Ok raga Nivello successivo Allora siamo quasi arrivati al fiume Oder Da una Mancano Da una Boh Ah sarà da là Perché gli accenti non Mancano meno di 70 km Alla tana della bestia fascista Alcuni componenti degli equipaggi I nostri carri armati Sono decorati veterani Della battaglia Di Kusk Sono loro che condurranno L'attacco all'order Ciò nonostante Siamo ancora corti Gli elementi esperti Per i carri armati Faccio io Il progetto Ampliato I nostri nuovi T34-85 Prevede che ogni carro Ospiti 5 membri Ma molti equipaggiati sotto Ma molti equipaggiati sotto Il mio comando Sono composti al massimo Da 3 unità Per essere pienamente efficaci Gli equipaggi devono essere composti Da un pilota Meccanico Un mitragliere Da torretta Un mitragliere principale Un caricatore Un comandante Sono stato autorizzato Ad arruolare Dalla fanteria Tutti i soldati Di cui ho bisogno Per completare gli equipaggi Secondo il tuo stato di servizio Sarai il comandante osservatore Mamma mia Dell'equipaggio Con meno esperienza bellica Ma competente Dal punto di vista tecnico Quando il prossimo gruppo Di sostituti Addestrati Raggiungerà il fronte Tornerai all'unità A cui appartenenti Presentarsi in rapporto Al rilevamento tattico Di carri armati Numero Quindi siamo Adesso sui carri Sì Guido il carro Finalmente C'è solo questa C'è Non c'è la mitragliatrice No Cazzo raga Ma tiro giù tutto Che figata Con il carro armato Raggiunge la periferia Della prossima Spara automaticamente Wow Guarda come becco Quello lì Becco quello lì Eh Vaffanculo Franz Chi è Franz Dai fuori dal cazzo Quello lì Quello distruggo io Qua le manca Beh raga io vado Dov'è Ah ma è qua Vaffanculo Si nascondeva Franz No sono in Franz Bisogna mirare Proprio così C'è sotto Questo Magari viene giù No Troppo grosso Ok No ma basta Tirare giù tutto Non siamo ancora arrivati Alla periferia Panzer dove Easy easy Questo Basta Sembra la stessa cosa Dicono Ai 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 Oh Che ma Ah c'è non Ma dove cazzo Sono usciti questi qua Olè Via Dove cazzo è Ah qua Ma vaffanculo Ma Ma non si capisce neanche quali sono contro e quali sono con Si sbatte ancora da qua Quindi Ah no ma sono morti Questo qua vola Attenzione vola lui Allora Prontissimi Io sto lontano Uno è andato E qui non ne vedo altri Minchia raga Questi qua sono andati proprio Da che sbatti Non posso andare Oh è finito così Va bene Una missione velocissima Sui carri armati Oh no Ok 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 Oh Un'altra missioncina con i carri armati Merda Poi minchia con i panzer così a casa non si vedono No aspetta Oh mio dio Ci si distruggo le case Minchia altro che batte fu qua Anche qui si distruggeva le case Minchia pure le 1993 1993 Stai scherzando Solo alcune dai Ci accontentiamo Guardali qua che stronze Bastardo Bastardo No No non mi avrei mai Non vedo dove è andato l'altro No ancora Dove Ma qua è un panzer Minchia non si capiva Cazzo di grafica Vaffanculo Dai dai Oh Un colpo e vado Eccola Guarda come ti ho visto Un altro Amma mia Un altro Un altro Lo vedo Lo vedo Lo vedo Lo ho visto Lo ho visto Lo ho visto Quale è un altro O no Ole Ah devo distruggere i cannoni Ok Non avevo capito Distruggere un'unità Flak Panzer Antiaereo Ah sta cosa Ma è amico questo Ok Dai amico Dove cazzo Sei stato fino adesso Però bastardo Nivello successivo Aia 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 Aia